Ormai è la terza estate consecutiva in cui lo spettro delle tensioni sul debito dei paesi periferici dell'Eurozona rischia di far saltare il banco. L'anno scorso sono stati necessari draghi ed il varo del programma OMT per rasserenare i mercati. In questo 2013 le nubi minacciose che si vedevano all'orizzonte sembrano essersi addensate improvvisamente nell'ultimo giorno di contrattazioni della settimana. Tutto è partito dal Portogallo alle prese con una crisi di governo che il Presidente della Repubblica vorrebbe risolvere attraverso l'allargamento della maggioranza anche all'opposizione socialista, il cui leader però ieri ha dichiarato che le condizioni del piano di aiuti da 78 miliardi di euro vanno rinegoziate. Tanto è bastato per far schizzare ai massimi i rendimenti dei bond portoghesi a 10 anni, giunti al 7,4%, e ad innescare un effetto a catena che ha coinvolto anche il nostro spread, rialzatosi ieri repentinamente oltre quota 300 punti base per poi chiudere a 292. Del resto le fibrillazioni all'interno della maggioranza che sostiene il governo Letta è l'onda lunga del downgrade operato da Standard & Poor's che tra l'altro ieri a mercati chiusi ha comunicato il declassamento di nove banche italiane tra le quali Unicredit, Intesa San Paolo e Mediobanca e La Messa sotto osservazione di 23 istituti. Contribuiscono a tenerviva la sensazione che sull'Italia potrebbe presto succedere qualcosa. Ma ieri in serata a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche Fitch che ha tolto la AAA alla Francia portando il suo rating ad A a più. Naturalmente l'effetto sui mercati europei di questa decisione lo potremo vedere soltanto lunedì alla loro riapertura anche se non dovrebbe essere dirompente dal momento che con questo downgrade Fitch adegua la propria valutazione sulla Francia a quelle degli altri due giganti Standard & Poor's e Moody's. Ben più gravi potrebbero essere gli sviluppi di ciò che proprio Moody's ha messo nero su bianco in una nota a proposito di Cipro. Il salvataggio del sistema bancario sottolinea l'agenzia di rating ha lasciato il paese a corto di liquidità. La ripresa non dovrebbe arrivare prima del 2016 e dunque il rischio di default appare concreto così come quello dell'uscita dall'area euro. A settembre la Troika sbarcherà nell'isola per monitorare il programma di salvataggio che al momento però sembra fare acqua da tutte le parti.